Lewis Hamilton ha conquistato la polla nel Gran Premio di Austria. In un programma sul circuito di Spielberg domenica è valido per la ottava prova del Mondiale di Formula 1. Accanto a lui il compagno di scuderia Rosberg. Terzo posto per la Ferrari di Vettel, mentre Raikkonen partirà dalle retrovie, complice una in comprensione con il Box Ferrari. Alonso, ancora una volta penalizzato con la sua McLaren, retrocede di 20 posizioni. Inizio della gara alle 14.